Musica Garantire l'autosufficienza nei mesi invernali, quelli a rischio di influenza che se costringe a letto con la febbre ai donatori mette a rischio l'intero sistema trasfusionale. E' questo l'obiettivo della campagna che l'Avis Provinciale di Ferrara in collaborazione con l'azienda USL di Ferrara sta promuovendo su tutto il territorio estense. Durante l'epidemia influenziale che generalmente va da dicembre, gennaio, febbraio il culmine poi vedremo quando sarà, dipende dalla stagione, dipende dai virus, dipende da tante cose noi abbiamo in quei tre mesi di circa un po' di più di 5.000 donazioni. Quindi sono 5.000 donatori in piena salute che vengono a donare. Quindi se l'influenza è di media gravità, ma colpisse dal 15 al 20% delle persone noi potremmo perdere di quei 5.000, 1.000 flaconi di sangue. E non sono pochi. Quando dico noi non mi riferisco solo a Ferrara perché Ferrara è la provincia che vaccina più donatori, anche se in modo insufficiente come numero. Ma vuol dire che se andiamo a perdere il 20% delle donazioni in tutte le miglie, in tutta l'Italia vengono a mancare i flaconi di sangue per i pazienti. Quindi vengono tenuti i flaconi di sangue per le emergenze e vengono rinviati tutti gli interventi rinviabili. È necessario per l'Avis garantire l'autosufficienza durante il periodo invernale. Da dicembre a febbraio è il momento del picchi influenzale per cui bisogna che i nostri donatori siano in salute per poter donare le sacche di sangue che servono per gli interventi chirurgici. La seconda ragione è perché noi facciamo anche prevenzione, dobbiamo anche fare prevenzione nel territorio. Quindi stimolare la vaccinazione per noi significa stimolare le persone a vaccinarsi perché non prendono l'influenza e non attaccano l'influenza ai loro familiari, i bambini più piccoli, gli anziani. Questa è la cosa più importante, non diffondere le sindrome influenzali nel territorio. Per molti l'influenza è una semplice seccatura, ma non bisogna sottovalutare l'impatto della malattia, soprattutto per alcune persone come gli anziani, i malati cronici, le donne incinte. Nel sentire comune l'influenza è semplicemente un piccolo intervallo nella propria vita, per cui alcuni giorni di febbre più o meno alta, che si tratta con qualche anti-influenzale e poi si riprende la vita normale. È chiaro che nelle persone giovani, adulte, sane, l'influenza non è un grosso problema. In questi casi evitare la malattia influenzale serve per poter svolgere il proprio lavoro, serve per poter fare le donazioni e quindi si inserisce in un contesto più di tipo sociale. Per le persone che hanno condizioni di rischio, le persone con diabete, le persone con ipertensione, oppure le persone che hanno più di 65 anni, quindi cominciano ad avere un'età nella quale l'organismo non è più pienamente attrezzato per rispondere all'attacco dei virus, possono determinarsi delle complicanze, che possono essere complicanze facilmente risolvibili, come possono essere complicanze che poi evolvono in forme molto gravi, una miocardite, una Guillain-Barré, insomma una neuropatia, cose anche molto importanti, fino ad arrivare al, per fortuna sono molto rare, però tutti gli anni non dimentichiamo che abbiamo in Italia circa 800 persone che muoiono di influenza. Da circa 10 anni che in Emilia-Romagna abbiamo il vaccino gratuito per i donatori, l'anno scorso il Centro Nazionale Sangue e il Ministero della Sanità hanno inserito in tutta Italia i donatori come categoria importante per salvaguardare la loro salute. Noi sono circa 10 anni che facciamo le vaccinazioni qua, quando i donatori vengono a donare, e non è utile, è utile per il donatore, ma non è utile ai fini di attenuare la mancanza di sangue, perché uno che dona adesso verrà a donare in marzo, invece per avere l'opportunità di vaccinare i donatori che devono donare dicembre, gennaio, febbraio, noi facciamo delle sedute nelle varie sedi e anche qua lunedì e a giovedì, che è aperta il Centro di raccolta, e nelle varie sedi alla sera. Voi farete anche dei richiami alla sera per far sì che i vostri donatori aderiscano a questa campagna? Sì, allora, tutti i giorni, presso l'unità di raccolta di Ferrara, tutte le mattine, lunedì e giovedì pomeriggio si può venire tranquillamente a vaccinarsi. In più, tutte le uscite che noi facciamo nelle nostre equip nel territorio, le domeniche, i sabati e i venerdì, possono vaccinarsi. In più, se ci sono persone nei singoli territori, nei singoli comuni che vogliono donarsi, è sufficiente che si prenotino presso le nostre avis comunali e in quel momento noi mandiamo giù le nostre equip per fare le vaccinazioni. Che cosa serve per vaccinarsi? Per vaccinarsi serve star bene, in quel momento in cui si viene a fare il vaccino si deve essere in perfetta salute, non si devono aver avuto influenze recenti, non si deve essere raffreddati, ma nient'altro. Chi ha preso antibiotici, interazioni, cosa va? Dipende dalla motivazione per cui hanno fatto certe terapie, ma non è la terapia di un certo genere che ostacoli il vaccino. È proprio lo stato di salute in quel momento preciso, perché se la persona che si vaccina ha avuto problemi di salute e quindi ha il suo sistema immunitario che è già in attività per altre cose, andare a ulteriormente aggiungere un altro virus, anche se è un virus inattivato, comunque innocuo, potrebbe in quel momento mettere il sistema immunitario a un lavoro troppo eccessivo, quindi deve star bene. Hai fatto il vaccino anti-influenza? Lo sto per fare, sì, perché infatti già mi sono ammalata e non vorrei, anche per una questione, cioè non vorrei influenzare negativamente anche il fatto che posso donare ammalandomi. Lei si è vaccinata? Certo, sabato, ho fatto donazione e vaccino. È importante anche quello, insomma? Importantissimo, ed è importante lavarsi le mani, come insegnano, che molta gente non lo fa invece. Ti sei appena vaccinata, perché? Allora, innanzitutto perché è utile e poi perché comunque ho un nonno da, diciamo, proteggere da eventuali influenze, quindi complicanze. Controindicazioni per il vaccino? Assolutamente nessuna, né in zona locale di puntura, perché non c'è neanche, ma proprio può essere un leggero indolenzimento, che io escludo ci sia, e nessun altro problema neanche nei giorni seguenti. Quindi a volte si dice, beh, ho avuto la febbre il giorno dopo, molto probabilmente non è il vaccino che l'ha procurata, è perché c'era già in atto, c'era qualcosa comunque che poteva dare questi sintomi. Quindi il vaccino è tranquillo, non si accorge neanche di averlo fatto. Il vaccino nella maggior parte dei casi non dà nessun disturbo. In una piccola parte dà un po' di dolore nel punto di iniezione, una piccolissima parte dà un po' di dolore muscolare, qualcosa, un'influenzina attenuata, va bene, che è niente rispetto all'influenza vera e propria. E poi dopo, in rarissimi casi, quando si dice uno su diecimila, uno su centomila, può dare, no guion barré, può dare delle neuriti, ma è rarissimo. Il virus influenzale viaggia sulle goccioline degli sternuti, per cui la cosa importante da fare sempre è ricordarsi di lavarsi le mani, lavarsi le mani anche cento volte al giorno, acqua e sapone, se si è fuori casa, i gel con idroalcolici vanno benissimo. E poi, quando ci si soffia il naso, buttare i fazzoletti nei rifiuti, non lasciarli in giro. Ecco, queste sono le misure comportamentali di prevenzione. Poi, naturalmente, il vaccino è un grande strumento di prevenzione. La sua efficacia non è del 100%, le risposte non sono sempre ottimali nelle persone, però dà una garanzia di protezione, nel senso che, come minimo, riduce la gravità delle complicanze o addirittura evita le complicanze. Quando uno in periodo influenzale viene colpito da un raffreddore, da un po' di febbre, da tutto, cosa diceva l'influenza? Non va a fare il tampone, la sicurezza è col tampone, l'isolamento del virus influenzale. Ci sono tantissimi virus, più di 200 rinovirus, adenovirus, che possono colpire e danno un raffreddore, danno un po' di mal di gola, danno la laringite, danno un po' di febbre o la febbre, che nel periodo invernale, in periodo influenzale, noi diciamo, ho preso l'influenza anche se ero vaccinato, invece era un altro virus. Il vaccino antinfluenzale ha un difetto, che la sua protezione dura circa sei mesi, per cui tutti gli anni bisogna ripetere il vaccino. Per quello che riguarda la stagione influenzale, che da noi coincide con la stagione fredda, quindi fra dicembre e marzo, però per esempio l'anno scorso il picco è stato nel mese di febbraio, quindi tra l'inizio e la metà di febbraio c'è stato il picco antinfluenzale. Quest'anno le previsioni sono che potrebbe anticipare di qualche settimana, però molto dipenderà da come va la stagione climatica, quindi se fa molto freddo potrebbe anche anticipare di più. Per i donatori di sangue, come anche per altre categorie, il vaccino è gratuito ed è consigliato farlo possibilmente entro dicembre. Noi andremo avanti tutto novembre e anche dicembre, una parte di dicembre. L'USL ci ha già fornito mille vaccini antinfluenzali e una ventina di vaccini antipneumococico per i donatori che donano oltre i 65 anni. Però noi possiamo andare avanti anche di più, dipende dal momento in cui ci sarà il culmine, perché se uno fa, il donatore che fa il vaccino è immune dopo 15 giorni. Il vaccino ha bisogno di 15 giorni per funzionare. Quindi se ho vaccino anche uno in dicembre, da metà gennaio è coperto. Ricordiamo quante sono le sacche che servono ogni anno per la provincia di Ferrara e l'importanza che i donatori stiano in salute. Ora ogni anno noi raccogliamo oltre 22.000 sacche di sangue. Nel periodo dicembre-febbraio però ci servono circa 5.000 unità di sangue per garantire l'autosufficienza. Quindi non possiamo permetterci che queste unità di sangue calino in questo periodo perché altrimenti rischiamo di mettere in difficoltà gli ospedali e le strutture che lo utilizzano. Per cui noi dobbiamo garantire con le nostre vaccinazioni queste 5.000 unità di sangue in questo periodo. Per cui noi dobbiamo garantire con le nostre vaccinazioni queste 5.000 unità di sangue in questo periodo.